Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarebbe pronto ad annunciare almeno 50 miliardi di dollari di razzi annuali e altre sanzioni contro la Cina per il presunto furto di tecnologie e di segreti commerciali ai danni di imprese americane. Le misure, ha rivelato il New York Times, segnerebbero la mossa più aggressiva finora intrapresa da Trump contro Pechino, rivale economico in grande ascesa. Le sanzioni colpirebbero prodotti cinesi importati appartenenti a ben 100 categorie e imporrebbero restrizioni agli investimenti cinesi negli Stati Uniti. Trump, ha spiegato il quotidiano di New York, istruirà il Dipartimento del Tesoro ad adottare restrizioni su alcuni tipi di investimenti cinesi, per contrastare la politica industriale ambiziosa e dirigista della Cina, che mira a dominare settori all'avanguardia come l'intelligenza artificiale e la tecnologia mobile. Secondo il presidente americano, la Cina rappresenta un nemico economico degli Stati Uniti che ha approfittato degli americani come nessuno nella storia. Dal canto suo, Pechino è pronta a prendere tutte le misure necessarie per rifendersi, ha sottolineato il Ministero cinese per il commercio. La Cina non avrà un atteggiamento pigro, prenderemo inevitabilmente tutte le misure necessarie per difendere risolutamente i nostri diritti e interessi legittimi, ha detto il Ministero cinese in un comunicato, denunciando il protezionismo e l'unilateralismo di Washington.